Sia lodato Gesù Cristo Quindi il Signore Gesù non pone limiti e preferisce manifestarsi sempre all'interno della Chiesa, all'interno di tutto ciò che è il mondo del cristianesimo. Ed è per questo che oggi mettiamo in risalto un'apparizione, che non è un'apparizione vera e propria, ma è il suo modo di presentarsi a noi in quella che è la sua naturalità, ovvero nell'Eucarestia. In questa foto abbiamo la possibilità di contemplare il nostro Signore nel Santissimo Sacramento. Siamo in India, in un posto abbastanza sconosciuto, perché il posto non è molto così alla portata di tutti, si chiama Villa Kanur a Taliparambu Kanur Kerela, in India appunto. Quindi è un posto non molto conosciuto. E appunto il sacro volto di Gesù è apparso appunto nella Santa Eucaristia, esposta nel momento appunto dell'adorazione del Santissimo Sacramento. Domani questa reliquia partirà per Roma e verrà verificata appunto la sua autenticità. Grazie per aver seguito questa breve news e vi auguro una buona giornata nel nome del Signore.